Oggi cuciniamo insieme la pistacchiosa cake se volete fare la crema di pistacchio fatta in casa unite pistacchi, miele, millefiori e olio di arachidi frullate tutto col frullatore ad immersione deve diventare una crema omogenea per rimanere aggiornato su altre ricette iscriviti e attiva la campanellina musica 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 per la decorazione se avete usato i biscotti al cioccolato potete usare lamponi e scaglie di cioccolato musica 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 buon dessert a tutti spero che la mia pistacchiosa vi sia piaciuta e con questo dessert vi auguro una dolce giornata ciao musica musica